Al fine di garantire la sicurezza, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico, dei turisti che decidono di trascorrere le proprie vacanze in Sardegna al tempo del coronavirus, Assot Turismo Confesercenti ha sottoscritto una convenzione con la compagnia assicurativa Unipol finalizzata l'attivazione di una polizza a favore degli ospiti delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere dell'isola. La polizza spiega una nota dell'associazione a un costo di 5 euro a cliente e prevede in caso di Covid-19 una copertura assicurativa a protezione dei turisti alloggiati, che sarà attiva dall'avvio della vacanza e per tutti i 90 giorni successivi. La polizza prevede, tra le altre cose, un'indenità giornaliera in caso di ricovero per Covid-19 e un'indenità forfettaria per i casi più gravi. Si tratta di un'iniziativa che offre protezione ai clienti assicurandone la loro serenità, si legge nella nota della Confesercenti regionale, cosa non trascurabile in una situazione di grave incertezza come quella che stiamo attraversando. Inoltre potrebbe rappresentare, prosegue la nota, un elemento di distintività che potrebbe consentire lo sviluppo di efficaci campagne comunicative. Il nostro intento, oltre che dovere, ha commentato Sandro Salerno, mettere a disposizione del sistema turistico e ricettivo ogni possibile strumento per far ripartire l'industria delle vacanze. Attualmente assistiamo a una debole ripresa delle prenotazioni verso il sistema ricettivo. Questo certifica il forte disagio economico e sanitario generato dall'emergenza coronavirus. Grazie a tutti.